Quale è il tuo pronuncio corretto? Sjord 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 Hai una storia divertente per raccontare su un bambino che hai giocato? Non è un bambino divertente, ma è più come la quarta settimana, la quarta finale contro la Polonia Sjord 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 Non sono Il ragazzo di Lidia ha doppiato. Il mio amore è stato declarato che aveva probabilmente 5 club, altrimenti non è possibile di doppiare, aveva un diamantino e 4-4 in il maggiore, o 5-3, 3-2. E poi ha trovato un modo di fare questo contratto, con il club 5-0. E' stato un'ottima mano per giocare, quindi ha giocato l'unica modo per farlo. Ma ora il club 4-1, in un colt contratto. Ma questa è la storia gegen Polo, abbiamo perduto molto bene, ma ogni volta che abbiamo giocato bene, eravamo molto bene. E se i l'opportunità giocato meglio, e hanno più giocato, non è possibile di vincere. Non è una storia, non è una storia, ma è un'ottima, ed è una storia. Ha giocato giocato, ha giocato a vento, ingerito a vento con il il cuo, e poi la domanda è utile... ma non è pianto, ha scambiato, se era normale, perché il l'amore era le da 70, non è davvero sinistra, ma non è un'ottima di batti. E ora è andata, che esi proprio un'ottima. Grazie a tutti!